Ok, madre. 200.000 abitanti. 5.000 bianchi, il resto negri o mellici. I negri sono schiati, naturalmente. Prima li ammazziamo e dopo gli tagliamo la testa. Così anche loro dovranno aver paura della morte. Qui serve qualcuno che non abbia nient'altro da perdere che le sue catene, ma che abbia anche la voglia e il coraggio di perdersi. Esiste un troppo. I anchi, per una volta in sua vita, abbia sognato di matare un portoghese. Esta è occasione giusta. Ci sarà un massaggio. Ma noi che possiamo farci? Morreranno tutti. Probabilmente. Morreranno tutti. 4, 1, 2, 3, 4 Grazie a tutti.